restanti siamo ciao sono lui buonasera siamo andati a mangiare gelato e adesso no adesso bevono adesso imbriaga non è vero? guarda quanti super alcolici abbiamo sul tavolo eh o no? la tavola rotonda manco io vediamo se mi si vede ma manco se andava per terra ti picchiavo guardalo col telefono che poi non potete mandare al posto è un video di qualcosa qualcosa adesso lei si beve cosa ti bevi? niente l'acqua marrone l'acqua marrone vabbè siamo presa dal lago siamo al bar ci beviamo qualcosa ci beviamo qualcosa e come vedete è sera non so se si vede è sera ciao dopo luca e tu cosa ti dici? cosa dico? adesso bevo ma non sembra quella ma è la sembriaga una vecchia è davvero ma è la mia è una vecchia un'altra che è una vecchia ma è una vecchia ma è una vecchia Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.